Domani 20 novembre in occasione della giornata mondiale dei diritti dell'infanzia la casa Don Puglisi sarà tra i beneficiari della raccolta di farmaci pediatrici e prodotti baby care nell'ambito dell'iniziativa in farmacia per i bambini giunta la sua terza edizione organizzata dalla fondazione Francesca Rava NPH Italia Onlus in 1117 farmacie del territorio italiano il 20 novembre per tutta la giornata chi deciderà di dare il proprio contributo potrà acquistare e consegnare direttamente ai volontari presenti nelle farmacie aderenti biberon, termometri, cerotti, pannolini, lati omogenizzati, medicinali e vari altri articoli per la cura dell'infanzia la casa Don Puglisi riceverà i prodotti che saranno raccolti in due farmacie di modica farmacia Floridia di Corso Umberto I e la farmacia Montalbano Sgarlata in via Resistenza Partigiana in farmacia per i bambini è un'iniziativa nazionale della fondazione Francesca Rava i volontari della fondazione saranno impegnati a fianco dei farmacisti nella sensibilizzazione sui diritti dei bambini e nella raccolta di farmaci e prodotti pediatrici che saranno donati a 250 enti tra le quali case famiglia, comunità per minori, comunità per mamme e figli che aiutano i bambini che vivono in una condizione di povertà sanitaria in Italia e ad Haiti all'ospedale pediatrico NPH Saint Damien